Sostanzialmente l'Assemblea di Giovedì 22 ha approvato, a seguito della richiesta del Comune di Civitate, l'entrata del Comune di Civitate nell'Assemblea. Rispetto a quello che vi avevo detto, per ora non escono immediatamente via in Palestina andando a fare l'Unione verso Esine e Piancone. Sostanzialmente perché? Perché non si è pronti a livello tecnico. L'Unione gestisce dei servizi per conto dei Comuni. Il suo, la polizia locale, la protezione civile per quanto è di competenza e diverse cose. Per fare il passaggio da un'Unione all'altro serve anche il tempo adeguare contratti, adeguare comunicazioni. Cioè, dunque, non è come cambiare un paio di pantaloni. Dunque, il 2015, cioè il prossimo anno, sappiamo che nasce l'Unione della Valgrigna che verrà implementata, nel corso dell'anno, anche dai comuni di Eno e Prestige. Sostanzialmente l'Assemblea, dunque, ha deciso di accettare per ora la candidatura e l'entrata di Cilindateca 1, adeguare questo tutto alla legge del Rio che prevede diversi aggiustamenti all'interno della gestione dell'Unione e per ora formare un'Unione di 8 comuni, non più 7, come eravamo prima. No, no, no. Sappiamo già che nel corso dell'anno, ad un certo punto, di Eno e Prestige chiederanno di uscire dall'Unione per andare a fare l'Unione della Valgrigna. L'unica cosa che mi prende a dire è che, con un senso di responsabilità, la politica della nostra Unione ha dato una risposta a quella che potrebbe essere un'esigenza territoriale che va al di là dei personalismi e delle scelte, magari anche personali, risolendo sia da dire un'Unione piuttosto che da un'altra. Resta sempre l'incognita di Lozio, che è sicuro che a quarta d'ora dell'Assemblea eravamo ancora giù io e parlo erba e la vera magnolini a fare questo passaggio ulteriore, cercando di convincere Lozio ad entrare perché è rassurdo pensare ad un'Unione al di fuori senza considerare l'incorso dell'Ozio, purtroppo loro per ora, stanno alla finestra, dicono che non si sentono rappresentanti di questa Unione, soprattutto per la presenza di Breno e di Gnaldo. non commentiamo sicuramente questa cosa e ne prendiamo atto. Solo per dirvi che abbiamo fatto tutti gli sforzi di diplomazia e di ingazzatura e di qualsiasi modo per poter far capire a questi che noi senza di loro non possiamo ragionare una strada di comprensorialità e omogeneità, ma non c'è stato niente da fare. Si è fatto in due passaggi, no? Entrare, completare la territorialità e poi col tempo gli altri che sono un po' esterni a questa realità e poi si sarebbero uguali e poi ci siamo in un'altra parte, magari, però non è lo vecilia, non 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 lo vecilia, magari alla fine loro hanno fatto la giurisola, però in questo momento sono in una posizione così, fino a si stesse, questo è il principio, questo è il principio, perché comunque che ci sia in alto, in lunga, è vero che fosse una prova non funzionata territoriale e anche quello che non ci porta via niente, se c'è anche in alto, per un senso non è un problema, ma non è un problema. E' un punto, sicuramente questa nuova definizione è comunque di calore, pesci, eccetera, che è l'ecologico. Oggi siamo confinati con Cimidate, abbiamo un po' delle condivisioni di un maggiuto di Cimidate e l'ecologica. Ci fosse ancora sempre una cosa inoltre, sicuramente, purtroppo la logica non sempre, ma partire l'agulistica. Ci sono dei processi che non devono dare a forza in un'unica direzione. Poi c'è il senso dal treno, come si vuole in tutti i sport, ma ci sono cose un po' sintonare. Purtroppo è un'altra volta che la legge è il casino che si ha aiutato all'usinare. Tutti quanti, diciamo che entro l'anno noi siamo obbligati a conferire un'altra legge, a cambiare tutti i giorni e ad essere rientrati. L'ultima cosa, comunque... L'ultima cosa, noi abbiamo detto che quel giorno che l'ozio decide facciamo un consiglio a posto per approvare la... Ah, anzi, vorrei essere più chiaro. Con la legge del Rio il passaggio sarà solo assembleare dell'Assemblea dell'Unione. Quindi, probabilmente, a meno che ci sia qualcuno che veramente cambi la lona per cui deve esserci un passaggio di consiglio comunale, probabilmente è solo assembleare dell'Unione che aumenta e diminuisce. Tranne per quel comune che deve invece arrivare ad un nuovo... e quindi, come facciamo noi, facciamo noi tanti possibili. Non sarà il problema di fare nulla e non fare nulla per approvare la loro gestione. O anche fare una posta, ma... Anzi, per venga, su quello. E poi certo, la tendenza... Ma aversa di quello della giornale sulle modificazioni comuni... Ma anche... Nei prossimi forzamenti neanche nelle frazze dove possiamo... Ma fa parte. Quindi non ci offre, però bisogna anche vedere. Non sarà molto il problema. E quindi... Allora, lo Statuto... Allora... Allora, lo Statuto è semplicemente... Quella dicevi, date qualche aggiustamento rispetto alla legge del Rio. Ma perché proprio perché era la legge nazionale? Se non mi sono dato interventi favorevoli... Oltrari... Bisogna provare i due punti, sì. Ok, grazie.